In questa settimana con il format più frizzante della Calabria, estate 6-20-24, che racconta il bello dell'estate calabrese, vi portiamo a... Coringa, provincia di Catanzaro, in Calabria, per la diciassettesima edizione di Picoli e Gusti, organizzata dall'Associazione per Coringa. Venerdì alle ore 22.30 su Telemia. Seguiteci! E vi divo, e vi divo, e vi divo assai, che sta a vino di Ciroga, non c'è a monta mai. Un vino di Ciroga, non c'è a monta mai. Un vino di Ciroga, non c'è a monta mai.